Il suo essere un po' selvatico, come dicevo prima, in realtà si è un po' attenuato, forse meno stressato dagli impegni, soprattutto dal vivo, live, poi anche i dischi li fa quando vuole, per fortuna. Io tutte le volte che l'ho incontrato negli ultimi due o tre anni l'ho trovato invece particolarmente affabile e cortese e cordiale, forse appunto perché si è un po' fermato, lo sapete che si è ritirato in caso di campagna, quindi quelle poche volte che lo si vede è anche più cortese. Abbiamo passato per esempio di recente una bellissima giornata con lui, perché Avarese, dico abbiamo perché noi abbiamo contribuito a questa scelta, gli abbiamo assegnato il premio Piero Chiara e quindi è stata una bella giornata, abbiamo chiacchierato con lui, abbiamo fatto una cena. Vi racconto questo piccolo annebito, quando lui gli abbiamo proposto di venire a ritirare questo premio, lui come in compenso, per compenso di questa cosa, ha chiesto di poter cenare con una bagna cauda. Hai capito. Piero Chiara, hai ricordato un altro grandissimo, mentre parli mi vengono in mente anche delle affinità ovviamente, mi vengono in mente le grandezze di questo paese, Tenco, Reverberi, ciò che non è più rimpiazzabile. Senti, ti voglio salutare raccontandoti un fatterello che è accaduto per parlare di Piero, ci salutiamo con il ricordo di Piero. Sicché tu sai che lì in quella trattoria che il nostro ritrovo ci sono le fotografie di Piero fra le più originali, fra cui ce n'è una che è relativa al matrimonio del fratello di Pino. Piero era elegantissimo insieme a Francisco Sirigu, che invece era vestito, perché io vestivo Piero con un abito solenne, lui pretendeva camicia bianca, abito scuro e eccetera. Francisco lo vestivamo un po' come veniva, sicché aveva una giacca rossa che gli dette Pino, che però a lui stava molto bene. E si passa, c'è questa fotografia, un giorno... Diciamo per gli ascoltatori che si tratta di Pino Pavone, no? Pino Pavone, certo, grande Pino Pavone. Sicché un giorno arrivano due persone, io e mio fratello mangiavamo al tavolo, entrano e non si siedono a nessun tavolo e vanno direttamente a quella fotografia, fra le tante che figgiano Piero nella trattoria di cui stiamo parlando. A un certo punto cominciano a conversare, di fronte a questa fotografia, poi ci girano, ne vedono altre, vedono il passaporto di Piero qua e là, al che io incuriosito mi alzo e dico scusate, ma dico questo è un ristorante, ma dico voi siete entrati qui e non vi siete seduti, siete al cospetto di queste foto. Come mai? Uno dei due fa, dice no perché io sono venuto l'altra sera a cena, ero proprio sotto queste fotografie, sotto questa parete, ho visto queste foto di Piero Ciampi, mi sono entusiasmato e oggi ho portato quest'altro mio amico, il quale si volta, aveva un cappello al quale io mi rivolgo e faccio. Che peraltro lei somiglia tantissimo anche a Vinicio Caposera, lui si volta e con disprezzo mi fa, io sono Vinicio Caposera. Hai capito? Hai capito Ricco? Era venuto appositamente, poi siamo fermati per mangiare, abbiamo fatto due ore di conversazione dolcissima, ma lui era venuto Caposera a vedere proprio queste foto del Ciampi. Beh, anche Vinicio è un grande, fa parte diciamo di questa famiglia che possiamo intravedere in questa linea Ciampi, Conte e Caposera. Infatti, infatti, infatti. Enrico, allora io voglio ricordare tutto un complesso di cose a chi ci sta ascoltando, edito da Giunti, scritto da Enrico De Angelis, se amate le cose belle della vita, oltre che Paolo Conte, naturalmente, regalatevelo a Natale o se avete una persona che vi sta a cuore, regalatelo ad essa. Perché sicuramente è un libro che vi arricchirà, vi arricchirà di fatti, vi arricchirà di notizie su Paolo Conte, ma ancor più di inediti che su questo grandissimo autore italiano non avete mai conosciuto. Enrico, ti voglio bene, un abbraccio grande a te. Se posso dire una piccola cosa ancora, per gli ascoltatori di Roma, questo libro lo presenteremo il 26 gennaio, la sera del 26 gennaio, alla Casa del Gesso. Alla Casa del Gesso e dall'amico, no io sarò già lì, dall'amico Giampiero Rubè, casa nostra quella, no? Ci sarà anche un gruppo, gli spostati, che canteranno alcune canzoni, che tra l'altro la voce di questo gruppo, di questo duo, è la voce dei Nobrai, no? Oh come no, li conosco, sì. Ma avremo modo di riparlarne, sai Enrico, in prossimità dell'evento ci risentiamo e lo ricordiamo, va bene? Ok, va bene. Ti do un abbraccio grande, grazie Marcello. Grazie a te, Enrico De Angelis.